E saluto ragazzi, saluto in questo video, con questo amico e amice che vi parlo, oggi siamo ritornati con il suo video Allora ragazzi, oggi siamo con il post partire di Spezia Foggia che è finita 0-0 Un bel punto portato a casa, un punto veramente su un campo difficile perché la Spezia è una bella squadra Noi ci sono stati pure sfortunati, abbiamo colpito un palo e una traversa, un palo con Chiaretti, traversa con Mazzio Mamma mia, una sfortuna proprio Il fatto è che la Saturina ha sbagliato un cambio perché cavolo ha fatto uscire Iemmello per far entrare Vabbè, sì Iemmello ormai che l'ho visto molto però a qualche tiro l'ha fatto Però almeno potevi fare pure entrare Galanno per farlo giocare un po' Cioè invece non sta giocando quasi per niente Galanno, giocato solo credo 4-5 partite l'hava giocata Poi il resto proprio non ha giocato per niente Galanno, cioè almeno potevi farlo entrare per vedere cosa faceva Vabbè, lo Spezia veramente giocava benissimo Cioè questa squadra è massimo da quarto a quinto posto, non vorrei allargarmi Però questa squadra è una playoff, è da quarto a quinto posto Perché gioca veramente benissimo Scambi veloci, cioè sembrava il foggio di Zeman Vabbè, diciamo, quasi quasi ci arriva Però, cioè sembrava il foggio di Zeman E a parte però i piedi non li hanno addrizzati I piedi dopo non li hanno addrizzati Soprattutto che Rike e Bidawui Bidawui veramente su quella fascia ci ha creato il panico a gerbo Meno male che ha sbagliato tanti tiri L'hanno mandato tutti alle stelle Meno male Perché se oggi Bidawui era in formissima e calciava bene Sta partita la perdiamo sicuro Però Bidawui fosse pericoloso su quella fascia Molto pericoloso Poi il fatto è che noi siamo troppo fallosi Purtroppo, cioè oggi tre quarti dalla difesa è stata monita Poi Agnelli è spulso, mamma, eh Agnelli fei proprio schifo, veramente Con tutto il rispetto che sei il mio capitano Però fei veramente, hai fatto veramente schifo E niente, siamo rimasti in dieci Soffrendo, soffrendo ma ci siamo portati il punto a casa Ripeto, un punto duro Cioè un punto duro su un campo difficile Molto difficile Vediamoci che l'anno scorso pure L'anno scorso L'anno scorso pure ci abbiamo perso 1-0 Quest'anno 0-0, punto duro E niente, questo volevo dire Beh ragazzi, spero che questo vi sia piaciuto Commentate, iscrivetevi al canale Su tutti e tutti i video Noi ci vediamo Alla prossima Ciao